Scusate, ma il centro è chiuso? Sì, il centro è chiuso. Sì, per quanto è stato chiuso. Ah, proprio per due giorni. A che ora è stato chiuso? In questo momento. Poco, una mezz'ora è stampata. Grazie a reggita Margherita. Stanno facendo dei frutti pian piano, ma è tutto chiuso. Ah, quindi anche i locali, il boss, hanno chiuso. No, no. Scusa dal comitato di sicurezza preso, non so, chiedo a lei perché... Dal sindaco. Dal sindaco. Sì. Quarant'attore. Ok, fino al 2 settembre. Grazie. Buonasera. Sarà pericoloso o non sarà pericoloso? Questa è una buona domanda che soprattutto a Monterare si stanno ponendo, diciamo. Dopodiché la prima sicurezza incominciò a pensare che è meglio che me la gestisca io da solo, dato che non mi sembra che gli altri istituzioni militari siano capaci di darmi delle ulteriori, diciamo, informazioni che ho appunto il senso di sicurezza di sicurezza, no? Ok. Buonasera, grazie. Buonasera. 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 di ufficiale di ufficiale qualcosa no, noi no ho sentito l'ordinanza ma se quella che è stata fatta non so se vale per voi